Ciao a tutti ragazzi, sono Diego Gaming e bentornati nel mio canale Oggi siamo in compagnia di mio cugino e Alex Matteoni Che non ha un canale, però lo potrete conoscere perché ve lo farò vedere Probabilmente io lo farò vedere io Guardatelo Conoscete tutti qui Ok ragazzi, oggi andremo a fare tre partite Come tre partite? Quante devo fare? Dieci partite con Elia Con Elia pesa Con Elia Che pesa che pesa Basta E allora iscrivetevi al canale perché non è ancora iscritto Anche io ancora Zitto! E potremo partire Eccoci ragazzi nella partita Eccoci ragazzi, sempre con Elia Ecco allora ragazzi Gigi per Elia Che è fortissimo con Shelly Diego non lo stai facendo? Sì Oh no, arriva Rosa, io muoio male e io muoio male e sono morto Non lo stai facendo? Ah Sì Non lo stai facendo Non lo ne ho neanche visto Perché mi ero sconcentrato Stavo vorremmo testando Va bene ragazzi questa partita non conta Ecco, esatto Eccoci qua nella partita Sì, non è che devi fare la telecronica Sì Oggi farò la telecronica Vittorio C'è il più forte di Elia Elia è il più forte di tutti Vediamo qual è la classifica Vieni allora Allora Prima di Elia Che ragazze abbiamo ammazzato il primo Eh? Ok ragazze abbiamo ammazzato il primo Bene Ma dopo non lo faccio assaggiare Che? Un amico lo vuole assaggiare Il terzo Un amico lo vuole assaggiare Porco 2 Quello è un genio Quello è un genio Sì, comunque Alex mi stai sconcentrando Non sto facendo niente Basta ragazzi La rosa è morta male No è viva Vai che te la fai Aspetta 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 5 secondi Ok ragazzi adesso Oddio Vai 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 Prendi power up Vabbè Gigi bravo Sì Vabbè Piotra Piotra Ok ragazzi Gioco ancora Adesso ci impegniamo ragazzi Non mi muove Non mi muove Non basta Alex Ti sento Adesso Adesso Ragazzi Ragazzi Scrivetemi nei commenti Hashtag Alex Non sa Non sa Pratenersi Nei video Oh Ma c'è che padre Vuole svedere un amico Come fa i video Oddio i capelli scombinati C'è C'è l'Italia Che facevi un video Così Guarda Muto Sì Lo so Perché non mi andava Mobid Allora Adesso Faccio due Le corde Ho usato la super bull E io l'ho schivato Gigi Bella lì Arriva Arriva Che Sì Mi sa che perdete Scherzavo Oddio Che palle Lo so Croco Chi è Sì Ok ragazzi Scrivete Hashtag Pespo07 Pespo08 E Sono due Tutti Mi porta il mondo Non è vero Aia Stai Così è meglio Oh sì Però Mi Sto Ok Eccoci qua Ragazzi Nella partita Del secolo Ragazzi Questa è la nostra Terza partita Dopo una vittoria No E arrivo Lì Che nabba Emiliano Pro Mi sa nabba Invece non ho vita Te la sopra Io non ho vita Aiuto Aiuto Ragazzi È la sfiga Dei pro Ecco Prendi il beberone Il beberone E l'ammazzi Tutti Boom Secondo me Potevi anche Non usarla La sopra Lasciami E arriva Lì Io voglio Ammazzare Quell'Ion È morto Bella Lì Ok ragazzi Ne è partita L'avevo Detta che ci Impegnavano Infatti Abbiamo fatto Due vittorie Oh io col bullo Killerei BB No ma Mi ha levato Tutta la vita Ok No mi sei Boccato Cosa Crede Di fare Deve morire Il 12 di vita No Il 12 di vita Ilia Cavolo Non ci posso fare Lo ammazzo Ragazzi Io e il mio cusino Faremo una live Ogni martedì Che ogni martedì? Dipende Grazie se c'è Grazie bull Che sfiga Dio mio Il mio martedì Forse ci sarà Una live Anche Però se oggi Non dovremmo fare Esatto E lì a 1100 Preciso Ragazzi Quando arriveremo A 10 iscritti Faremo lo speciale 10 iscritti? Sì Poi seguito A 20 A 30 A 40 E poi a 50 Smetteremo E faremo Lo speciale Ogni 50 iscritti Non so se arriverà A 50 Però dai Procci Ok ragazzi Faremo altre Tre partite E il video Senza Lontà Niente Lascia Pensare No Stai già Come battendo Ma avvertimi Surprise Madoffato Io noob Gary C'è una stupida BB E lì c'è Un'altra Lì No C'è Cococcio C'è Cococcio Ciao 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 Ti seguiva anche Cococcio Il corvo Basta ragazzi Adesso io metto Il mio brodo preferito Fotte cega No Non ce l'ho Quello No C'è la C'è la mia Cugino Allora Mette lì Hai messo Non ce l'ho Tizio 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 quando sei nato e non potete vederlo perché sono appena sono appena diminuito stupida bibi io ma che sfida che abbiamo non ci credo niente io non mi sto impegnando quindi finiamo questo video ragazzi oggi faremo l'ultima partita e poi inizieremo una live adesso iniziamo la partita ma io prendo io prendo io prendo io prendo io c'è chi è che lo prendi so time for the wind oddio no elia ok mi è sparita io non l'ho ascoltata altrimenti mi ha tolto no ozzo colte ozzo colte ozzo oddio elia perché te la riesco con la voce io non l'ho ascoltata altrimenti mi ha tolto